Gatti in calore Il maschio inizia a gironzolare La gattina subito corre Quanti si accoppiano o litichano Oh, questa Oca quando esce dall'acqua Cane che attacca Un cane pastore tedesco che attacca verso un altro avversario E il padrone non riesce a mantenere Maiale mentre mangia Il maiale mentre mangia Cavallo Adesso siamo agli animali feroci Leone Pantera Elefante 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 ha detto Sì, elefante Questo non l'avevo mai sentito Adesso passiamo a tutt'altro G E c'è anche una precisione Fiat 850 Quando fa freddo e non riesce a partire Gratta pure il motorino Sì, 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 Grazie a tutti.